Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. La premier italiana Giorgia Meloni è decisa a commentare i risultati definitivi delle elezioni in Francia solo quando il quadro sarà chiaro. Tuttavia, l'esito negativo per Marine Le Pen viene visto come una battuta d'arresto anche per Matteo Salvini, che aveva espresso il suo sostegno alle pene Bardella dopo il primo turno. Ora, Salvini deve fare i conti con l'ironia che dilaga sui social media. Da Palazzo Chigi iniziano a emergere considerazioni politiche che vedono Emmanuel Macron come il principale nemico. Macron è riuscito a fermare l'avanzata della destra, ma il paese appare diviso in tre parti, con l'estrema sinistra in crescita e il Parlamento paralizzato. La sconfitta di Le Pen è vista come un'opportunità per dimostrare che il governo italiano è l'unico in Europa a essere stabile e guidato da una premier rispettata. E questo è un dato di realtà che in queste ore ci viene riconosciuto a livello geopolitico, non solo da Washington, affermano fonti dell'esecutivo al Corriere della Sera. La sconfitta di Le Pen potrebbe anche aiutare Salvini a ridimensionare le sue ambizioni politiche. La Lega sperava di formare un gruppo europeo filorusso, lontano dai conservatori e riformisti europei di Meloni. Un altro sconfitto è Viktor Orban, che aveva puntato sulle elezioni in Francia per espandere la sua influenza in Europa, ma dovrà rimandare i suoi piani a data da destinarsi. Il prossimo appuntamento cruciale sarà il 18 luglio, quando il Parlamento europeo voterà la fiducia a Ursula von der Leyen. I conservatori europei non voteranno in blocco per la conferma della presidente uscente, ma Fratelli d'Italia potrebbe sorprendere con un voto favorevole. Ogni delegazione nazionale deciderà come votare, non c'è un vincolo di gruppo, ha detto il ministro Raffaele Fitto, che è ancora in lizza per un ruolo di rilievo nella commissione. Non c'è ancora un orientamento, voteremo in base al programma, ha aggiunto il ministro, indicando che l'opzione più probabile è una astensione costruttiva per mantenere aperti i canali di dialogo e non mettere a rischio la posizione di Ursula von der Leyen. Intanto, gli eurodeputati del Rassemblement National di Le Pen si uniranno oggi al nuovo gruppo dei Patrioti per l'Europa, rendendolo il terzo più numeroso al Parlamento europeo e superando il gruppo We New Europe, che include il partito di Emmanuel Macron. Cosa pensi di questa evoluzione politica? Sei d'accordo con la strategia di Meloni e Salvini? Come credi che si evolveranno i rapporti di forza in Europa? Lascia il tuo commento qui sotto e facci sapere la tua opinione.